Bene, a questo punto vediamo il terzo tipo di stile, ovvero il tipo classe. La classe, a differenza dell'ID, è uno stile che può essere applicato a qualsiasi elemento della nostra pagina. Come l'ID però ha bisogno di qualcosa che associ il nostro stile all'elemento. Innanzitutto andiamo nella pagina degli stili e creiamo una classe. Per farlo devo cominciare inserendo un punto e poi inserendo un nome di fantasia. In questo caso lo andrò a chiamare testo enfasi, per creare uno stile che possa applicare un'enfasi a determinati testi, non a tutto quanto. Eccoci le graffe e cominciamo a crearci degli stili, per esempio font family e quello che cambiamo mettiamo di nuovo un courier. Ecco qua, esattamente come abbiamo definito prima. Aumentiamo un pochettino la grandezza del carattere, partiva da 14, lo aumentiamo di due punticini. Andiamo ad applicare uno stile al nostro font, questa volta lo mettiamo corsivo, una larghezza al testo che qua metterei bolder, ancora più grassetto di prima. Diamo proprio tanta enfasi. Aggiungo una proprietà che è il text transform. Cosa vuol dire? Che posso chiedere a un determinato elemento di trasformarsi o tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo. In questo caso mettiamo uppercase, cioè tutto maiuscolo. Per quanto riguarda il colore, magari assegniamogli un bianco. E assegniamo anche qui un padding su tutti e quattro lati di 20 pixel. Ovvero chiediamo a questi piccoli blocchi di testo di distanziarsi dal lato superiore, inferiore, destra e sinistro di 20 pixel. Adesso cosa me ne faccio di questa classe testo enfasi? Devo scegliere elementi a cui applicarlo. Intanto vado a copiarmi il nome, in modo da non sbagliare poi dopo. Torno nell'index e deciderò che questo paragrafo e questo paragrafo dovranno seguire gli stili appena digitati. Per farlo, trattandosi di classi, non mi resta che inserire l'attributo class. All'interno di class, il nome della classe data. Dicevo, a differenza degli id, io posso applicare questa classe a tutti gli elementi che voglio. Quindi se decido che anche questo paragrafo deve seguire essenzialmente gli stili del testo enfasi, andrò ad applicarlo anche qua. Vediamo che cosa succede. Salviamo tutto, entriamo all'interno della nostra cartella, apriamo la pagina, aspettiamo che carichi. Ed ecco qua che effettivamente il primo e il terzo paragrafo seguono proprio le caratteristiche che abbiamo associato negli stili. Quindi sono più di un elemento che hanno queste caratteristiche. Hanno un padding, quindi vedete che sono distaziate anche dal margine sinistro e destro proprio di questi 20 punti. Il testo viene trasformato tutto in maiuscolo, è inclinato ed è anche grassettato. A questo punto proverò a creare una nuova classe da inserire all'interno di un elenco puntato del nostro foglio. Ora non abbiamo questo elenco, ma direi che siamo super in grado di farcelo da soli. Quindi chiedo un elenco non ordinato, all'interno andrò a inserire delle liste. Scriverò in maiuscolo a posto, perché se prima abbiamo trasformato tutto in maiuscolo, adesso proveremo a trasformare tutto in minuscolo. Copio E facciamo quattro Secondo punto Terzo punto e quarto Intanto ci accertiamo che effettivamente funzioni tutto quanto. Ecco qua il nostro elenco puntato e l'elenco standard. Come facciamo attraverso gli stili a cambiare le impostazioni del font e le impostazioni magari del simbolo assegnato? Torniamo logicamente negli stili e creiamo una classe per questo elenco. Chiamiamolo proprio elenco, così ci ricordiamo. Se i nomi hanno anche un valore semantico, buon per noi. Intanto chiederò di cambiare il tipo del simbolo alla lista, scegliendo un square. Così da un pallino diventerà un piccolo quadratino. E questa volta per quanto riguarda la trasformazione sul testo, invece di metterglielo uppercase, metterò lowercase, cioè minuscolo. Salvo e vediamo che cosa succede. Non succede niente, come mai? Ah, ecco perché. Giustamente io ho creato la mia classe, mi manca un passaggio fondamentale, ovvero dovrò dire a questo elenco di andare a prendersi la classe definita negli style. Basterà entrare a questo punto nel tag UL, scegliere lo stile di tipo classe e mettergli il nome elenco. Voilà, effettivamente da maiuscolo è diventato minuscolo e il pallino è diventato un quadratino. Anche per le classi abbiamo finito, nel prossimo tutorial completeremo la pagina. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.